Il nome della rosa, balla coi lupi, il terno è il deserto, questi sono tanto alcuni dei manifesti curati da Renato Casaro, uno degli italiani che il mondo ci invidia. Un tempo non esistivano i trailer dei film, le locandine erano essenziali. Sì, direi di sì, la locandina era protagonista proprio per la pubblicità. Oggi è molto diverso perché trailer, televisione, tutto un altro sistema pubblicitario. E allora il manifesto era assolutamente essenziale, fondamentale proprio per incuriosire e per fare un veicolo pubblicitario estremamente efficace. Come è iniziata questa sua avventura che poi l'ha portata alla ribalta mondiale? Molta gavetta, diciamo, perché a Treviso lavoravo un po', nato a Treviso, io sono trevigiano doc, ci tengo a precisare. A Treviso lavoravo per un cinema, allora era Garibaldi, il cinema Garibaldi facevo i sagomati dei film in uscita, poi gli spedivano le foto a Roma. Visto come lavoravo, mi hanno chiamato a Cinecittà e soprattutto alla Luxfilm, allora era una casa cinematografica importante, e da lì cominciò l'avvio faticoso perché bisogna entrare nell'ambiente, bisogna essere conosciuti, molto ben conosciuti, per cui bisogna calcolare anche il tragitto, diciamo, di gavetta, ecco, che è importante per costruirsi poi il futuro. Una domanda banale, la locandina è quale più affezionato? Ecco, appunto, direi che l'abbiamo a fianco a noi, che è l'ultimo imperatore. Questa mi piace perché è stata, diciamo, riuscita così bene in sintonia con il regista, con Bertolucci, per cui è stata una combinazione fortunata di idee sue fuse con le mie, quindi è stato proprio un risultato eccezionale perché questo è stato pubblicato addirittura in Cina, insomma, quando hanno uscito il film in Cina, hanno operato questi manifesti, quindi sono orgoglioso proprio. Ad un giovane che si avvicina al mondo del cinema, cosa consiglia? Eh, oggi è difficile perché sono tutti, operano tutti col digitale, quindi è molto diverso, molto diverso. Tanto è vero che adesso mi hanno chiamato per un film di Verdone e già sono in difficoltà perché tutto è cambiato nel sistema. È una forma non più del manifesto, ma poi viene pubblicata in televisione, sui trailer, quindi è tutto un altro veicolo di comunicazione.